L'economia dell'innovazione e della tecnologia è un campo di studio che si focalizza sull'analisi dell'interazione tra l'innovazione tecnologica e l'economia. Questo ambito di ricerca esamina come le innovazioni tecnologiche influenzano l'economia, sia a livello macro che micro. L'economia dell'innovazione e della tecnologia si occupa di vari aspetti, tra cui 1. Diffusione dell'innovazione, come le nuove tecnologie vengono adottate e diffuse all'interno di un'industria o di un'economia. Questo può includere l'analisi dei fattori che influenzano l'adozione e la diffusione di nuove tecnologie, come i costi di implementazione o i vantaggi competitivi. 2. Impatto economico dell'innovazione, come l'innovazione tecnologica influisce sull'economia nel suo complesso. Questo può includere l'analisi degli effetti sull'occupazione, sulla produttività, sulla competitività e sulle disuguaglianze economiche. 3. Politiche di innovazione, come le politiche pubbliche possono favorire l'innovazione e la diffusione delle nuove tecnologie. Questo può includere l'analisi dei meccanismi di finanziamento dell'innovazione, come gli incentivi fiscali o i finanziamenti pubblici per la ricerca e lo sviluppo. 4. Sviluppo di nuove tecnologie, come le imprese e i ricercatori sviluppano nuove tecnologie e come queste possono essere commercializzate con successo. Questo può includere l'analisi dei modelli di business, delle strategie di commercializzazione e dei processi di sviluppo tecnologico. L'economia dell'innovazione e della tecnologia è un campo multidisciplinare che si basa su concetti e strumenti, provenienti dall'economia, dalla sociologia, dalla psicologia e dalla gestione aziendale. Gli economisti e gli studiosi di questo campo di ricerca cercano di comprendere come l'innovazione e la tecnologia possono contribuire alla crescita economica e al miglioramento del benessere sociale.